La cocaina la chiamavano Barbara, mentre l'eroina diventava Angela. Se invece si riferivano ad un panetto di hashish, parlavano di valigia. È il linguaggio in codice utilizzato nelle conversazioni telefoniche da una banda di narcotrafficanti che operava in diversi comuni del Barese. Sono 19 le persone arrestate e trasferite in carcere dai carabinieri nel corso dell'operazione Bypass, scattata all'alba di questa mattina tra Bitonto, Palo del Colle, Bitetto e Noicattaro. I provvedimenti cautelari sono stati firmati dal GIP del Tribunale del Capoluogo su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia. 32 invece gli indagati ritenuti appartenenti all'organizzazione criminale, dedita al traffico di stupefacenti. Il blitz antidroga scaturisce da un'indagine condotta tra il 2019 e il 2020 dai militari dell'arma, che ha permesso di far luce sulle attività dell'organizzazione operante sotto il controllo del pericoloso clan Cipriano di Bitonto, ma con estese ramificazioni in altri comuni della provincia di Bari. L'attività investigativa, portata avanti soprattutto attraverso intercettazioni telefoniche ed ambientali, ha permesso di documentare un intenso giro di spaccio gestito inizialmente dal clan nel territorio di Bitonto, anche per tramite di familiari e pusher. In seguito, secondo quanto accertato dagli investigatori, per bypassare l'asfissiante controllo delle forze dell'ordine dopo l'omicidio di Anna Rosa Tarantino, vittima innocente di una guerra di mafia, gli affari sono stati spostati in altri comuni, in particolare a Palo del Colle. Sempre per eludere l'azione di contrasto delle forze dell'ordine, i componenti della banda, nel timore di essere intercettati, utilizzavano un linguaggio criptico, pronunciando parole apparentemente senza senso, ma che avevano un preciso significato per puscere clienti. Nel corso dell'indagine sono stati sequestrati ingenti quantitativi di stupefacenti, per un totale di 18 kg, tra cocaina, eroina, hashish e marijuana, nonché la somma di 175 mila euro in contanti, solo una piccolissima parte del denaro incassato dall'organizzazione con il business della droga. L'operazione si vuole in continuità con una nave di interventi repressivi condotti dall'arma nei bofflotti dello stesso clan e che hanno portato, tra l'altro, a una recente condanna di oltre 20 affiliati già restati nell'apito dell'operazione denominata Bortano Bustina eseguita nel 2022.